Manca pochissimo alla 46esima edizione del gran carnevale scernese, l'evento a cura dell'associazione carnevalari scernesi che ogni anno raggruppa attorno a sei migliaia di partecipanti e un fantasioso gruppo di carri allegorici. Presidente, come stanno procedendo i preparativi? I preparativi? Oggi siamo all'ultimo giorno quindi siamo al completo, abbiamo ultimato tutti i carri perché il lavoro ha richiesto quattro mesi di preparativi perché quest'anno abbiamo anche messo dei meccanismi idraulici con pneumatica perché abbiamo anche collaboratori esperti in questo e quindi abbiamo ritenuto opportuno migliorare la qualità dei carri con questi movimenti meccanici per renderli anche animati e non solo statici. Quindi ha richiesto maggiore sforzo e competenza ovviamente perché richiede competenza i carri hanno bisogno di essere sicuri perché in mezzo alla gente con migliaia di persone non si può rischiare di fare dei danni quindi ci vuole tanta tanta competenza in questo però alla fine abbiamo fatto un ottimo lavoro perché ha detto di tutti che dovrebbe essere una delle edizioni più seguite e più lavorate nel senso proprio di quello che dicevo di meccanica e movimenti. Il tempo quest'anno fortunatamente è dalla nostra parte perché gli altri anni c'è sempre il vento che rovina un po' tutto quello che è il programma giornaliero quest'anno insomma dovrebbe svolgersi con una bella giornata quindi le presenze saranno sicuramente molto molto maggiori. Ecco già che ci siamo vogliamo anche illustrare il programma completo dell'evento. Sì il programma è niente allora si inizia con la sfilata alle ore 15 dalla piazza del Paese, piazza dei Riseis poi faremo i classici due giri con tutto il corteo ci saranno anche tanti numeri a piedi e bande, sbandieratori, gruppi di danza che seguiranno i carri e niente poi alla fine corteo ci saranno anche i fuochi d'artificio e la premiazione di tutti i ringraziamenti di tutti i partecipanti con delle targhe ricordo per ringraziare la partecipazione anche dei carri esterni dell'amministrazione che ci ha messo a disposizione ovviamente questo gran capannone ovviamente dove noi non potremmo fare carri di dimensioni abbastanza importanti quindi si ringrazia poi ci sarà tutta la protezione civile che ci darà una grossa mano e anche volontari che si mettono a disposizione di questo giorno per dare la mano a tutta l'associazione e tutti i ragazzi insomma che ogni anno abbiamo nuove persone che vengono restano tutti soddisfatti dell'armonia che c'è nel nostro gruppo e quindi vengono molto volentieri a dare una mano adesso mi sposto di qua vogliamo anticipare le novità dell'anno in particolare cosa dobbiamo aspettarci da questa 46esima edizione? sono dei bellissimi carri abbastanza grandi tipo questo del Drago ci stanno parecchi di carri noi siamo soddisfatti anche se è stato sacrificio, sacrificio, sacrificio per poterlo realizzare comunque siamo contentissimi speriamo che la gente rimane contenta non ho che dire aspetta soltanto il tempo che ci aiuta diciamo rimaniamo un po' con un po' di suspense sì, ci fa rimanere un po' suspense perché noi dopo due anni sempre col vento, il vento, il vento speriamo che quest'anno ci dà la possibilità di fare pure i fuochi pirotecici così rimanremo tutti soddisfatti ringrazieremo tutta l'amministrazione comunale che veramente l'ha detto il Presidente si è messo a disposizione tutto, su tutti gli attrezzi, gli operai del Comune tutto a disposizione nostra un ringraziamento prima fanno a loro e poi vediamo come va a finire domani quindi spieghiamo anche dal punto di vista burocratico, se così vogliamo definirla a livello, tutti i preparativi insomma, come sono andati sì, il nostro Carnevale è molto impegnativo non solo da un punto di vista di lavoro dentro la rimessa comunale che l'amministrazione comunale ci ha messo a disposizione ma è tutta la parte burocratico che è abbastanza complessa sia nel fare le domande ai vari enti, primi si il Comune ma poi tutti gli arrempimenti burocratici con la SIAE per quanto riguarda l'assicurazione, per quanto riguarda la posizione civile che ci dava una mano a livello della sicurezza dei carri quanto riguarda anche la sicurezza della salute perché abbiamo anche in campo autoambulanze qualora dei partecipanti non dovessero sentire bene quindi abbiamo messo tutto in una macchina organizzativa molto complessa che dopo tanti mesi speriamo che il giorno di Carnevale, martedì 5 marzo a Scenici dia delle belle soddisfazioni a noi tutti l'Associazione Carnevalari Scenici Grazie a tutti